milano lancia una nuova campagna per la cura degli animali selvatici nuovi cartelli educativi per non nutrire la fauna selvatica scoiattoli pesci rossi tartarughe e altri animali sono coinvolti scopri perché è importante non dare loro cibo il cibo umano può danneggiare la loro salute e alterare l'equilibrio ecologico lo scoiattolo grigio e le nutrie possono creare problemi alla città i nuovi cartelli sono stati posizionati nei giardini indromontanelli al parco sempione e altrove educare i cittadini e i turisti a rispettare le regole per un ambiente urbano migliore ogni gesto di responsabilità conta per mantenere milano sana e sostenibile contribuisce a preservare l'armonia tra uomo e natura scopri di più sulla campagna visitando il sito del comune di milano segui la piattaforma lsn.net per rimanere aggiornato grazie per averci seguito ci vediamo presto